Concentrazione e focus su gara 2 della semifinale di play-off di Serie B interregionale per i ragazzi di Cozzo Bolignano, nonostante la vittoria convincente di domenica scorsa sul parquet dell'Info Drive Arena nel primo match dello scontro diretto contro Molfetta. Allenamento leggero dopo le fatiche di domenica in vista dell'incontro serale di mercoledì 22 maggio prossimo al Palapoli, dove i padroni di casa della Day Optical Virtus Basket tenteranno di allungare la serie contro la Info Drive, forti del terreno di gioco favorevole. In caso di vittorie, Biancazzurri addrebbero direttamente in finale play-off, dove giocherebbero per l'accesso alla Serie B nazionale contro la vincente tra Ragusa e Salerno, palla 2 alle 20.30. Mi aspetto una partita dove loro non vorranno farsi scappare l'opportunità di allungare la serie, ovviamente giocheranno in casa, sono vogliosi di riscattarsi dalla sconfitta di ieri, sicuramente avranno un peso maggiore di sopra, quantomeno per quanto riguarda il provare a non fare troppi errori, per esempio il fatto che per loro è un dentro fuori. Noi forse saremo un po' più, tra virgolette, rilassati, sapendo che comunque abbiamo l'opportunità di poter chiuderla lì su 2 a 0. dovremmo essere bravi sicuramente a cercare di metterli in difficoltà dall'inizio e indurli in errore per far pesare ancora di più gli errori sicuramente loro. Fino a oggi abbiamo dimostrato che il nostro marchio di fabbrica è quello della difesa, abbiamo necessità di continuare a dare intensità all'aspetto difensivo, soprattutto fuori casa, dove comunque sappiamo di giocare in un campo dove non è semplice e quindi per cercare di arginare eventuali problematiche offensive abbiamo necessità sicuramente di dare una marcia in più dal punto di vista difensivo. Sappiamo che possiamo farlo e quindi partiamo sicuramente da quello, dopodiché cercheremo di fare di tutto per cercare di provare a chiudere la serie già mercoledì. Qual è il clima in questo momento nello spogliatoio? Sicuramente positivo, dopo comunque un primo turno abbastanza dispendioso sia dal punto di vista delle energie sia dal punto di vista mentale. I ragazzi sono consapevoli comunque di quelle che sono le nostre potenzialità e ieri credo l'abbiano dimostrato, io ne sono soddisfatto perché abbiamo giocato una partita quadrata per 40 minuti e siamo riusciti comunque ad avere il pallino del gioco sempre dall'inizio alla fine. Quindi credo che sappiamo di fronte una squadra importante, però sappiamo anche cosa possiamo fare noi. Grazie a tutti.